Amici di Mistopolini, io sono Mister Rocco, proseguiamo in questa seconda giornata di Cassin nell'edizione 2015, vi presento subito l'aspirante, la bellissima aspirante Miss, numero? 18, la numero 18, allora il tuo nome e il tuo cognome? Michelle Masulla Michelle, nome bellissimo, lo sai no? Grazie Quanti ti hanno già detto nella vita che hai un nome bellissimo? Tanti Tantissime, allora mi sembra una ragazza molto giovane, quanti anni hai? 16 da compiere 16 da compiere, allora quindi sicuramente sei una studentessa Sì, studi Allora ci devi parlare un po' di te, cosa studi, dove sei? Studio al liceo scientifico Einstein di Cervignano, vivo a Campolonghetto e nella vita ballo danze latino-americane Ho capito, Campolonghetto, provincia di? Udine Di Udine, dove si trova più o meno? Vicino Cervignano, no? Sì, esattamente Vicino Cervignano, ho capito Fai balli latino-americani? Faccio con un ballerino da più di 7 anni, a livello anche agonistico Ah, ho capito, quindi sono quei balli di coppia, vestiti tutti con gli strass, ho capito Beh, insomma, impegnativo, no? Sì, abbastanza, mi alleno circa 4 ore a settimana, però è molto soddisfacente Ho capito, bene, bene, bene Senti, sei molto giovane, quindi ti chiedo è la prima esperienza, insomma, in un concorso di bellezza O hai già avuto altre esperienze? No, ho già avuto altre esperienze l'anno scorso, ho partecipato a varie sfilate e sono andata abbastanza bene Bene, ti sei divertita, insomma? Sì, molto Quello che dico sempre io, cioè approcciatevi a questi concorsi sempre con un'idea di divertimento, di vivere un'esperienza importante Voi sapete che le cose importanti e vere della vita sono? Lo studi Brava, come direbbe la Maionchi, brava, brava, c'è il papà che ha fatto così? Allora, senti, sei una ragazza molto in forma, so che c'è la nonna e so che c'è il papà Però, insomma, avrai tanti ragazzi, insomma, che ti corteggeranno perché sei una bella ragazza, eccetera C'è qualche, c'ha un amore nella tua vita o ci godiamo l'estate, insomma, la giovane età? Ci godiamo l'estate Aveva il papà già così, voleva capire, no? Sia tranquillo, insomma, è single, eccetera, va bene Allora, senti, il tuo sogno nel cassetto, c'è una cosa che vorresti realizzare a tutti i costi? Sì, diventare un'attrice Diventare un'attrice? Sì Hai già un genere che ti piacerebbe fare? Non so, tipo drammatico, una commedia, horror? Una commedia Una commedia, va bene, sei molto simpatica Allora, segno zodiacale Vergine Tu sei golosa? Di gelato Di gelato, quindi di dolci Ho capito, va bene, ben arrivato a Mistopolini Allora, quella è la telecamera, adesso, cara la mia bellissima Michelle, puoi dire e salutare chi vuoi, vai Saluto tutto il mio paese, in particolare mia nonna Ok, che salutiamo chi è qui presente? In bocca al lupo, ciao Grazie 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 Grazie